E dunque eccoci qui di nuovo nell'antro di Levorato, ceclicamente ormai bisogna fare questo incontro periodicamente e c'è qualche appassionato che ormai l'ha identificata quasi come una telenovela, la nuova puntata e la nuova puntata oggi è centrata su una cosa, su uno dei soliti temi sensibili cioè questa volontà, questa filosofia anche qua di Peter Henson di avviare la passione con oggetti di qualità ma abbordabili e che poi possono crescere nei modi più differenti che adesso ci racconta Pier Giorgio. Quindi oggi di cosa parliamo? Innanzitutto ciao a tutti, parliamo l'ennesima puntata nel processo di identificazione di ottimi rapporti qualità prezzo ma effettivi non come luogo comune in maniera che se uno ha un budget anche contenuto se lo può aggiustare in maniera più intelligente perciò evitando di pagare eccessivamente un certo brand e ottenere quel minimo sindacale che ci serve per poter sviluppare poi la catena e tenere la cifra diciamo un po' più cospicua come percentuale nel budget stanziato per i punti chiave della situazione. Ad esempio adesso partiamo con il giradischi, con l'analogico. Qui abbiamo due modelli elenco. L'elenco non è l'elenco che ricorda i nonni, i padri, i nonni con sede svizzera, con sussidiaria italiana eccetera. Attualmente è proprietà di un'azienda olandese però questi giradischi qua li vedi da lontano soprattutto quello più grosso c'è lo zampino di Bratislava, l'azienda slovacca che costruisce i project tech perché a Vienna fanno i disegni, i progetti ma la fabbrica è in Slovacchia. È la fabbrica che faceva le valvole Tesla fino alla separazione tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia trent'anni fa. Qui abbiamo praticamente un ottimo prodotto con un rapporto qualità prezzo invidiabile. Ha tanta roba perché deve contentare tanta gente. Poi uno, roba che c'è in più non l'ha pagata. È come lo zucchero sul caffè. Non sei obbligato a consumarlo, però te lo danno. Questa è una bella similitudine, me la rubo e me la rivendo. Stavo dicendo che qui abbiamo innanzitutto un braccio degno di essere chiamato tale, Fibra Carbonio, cugino di quello che montano i debut di project. In dotazione hai un'audiotecnica da 50 euro che per produrre le testine servono investimenti perché le macchine, dopo tot numeri, producono delle testine con delle tolleranze intollerabili. Perciò è un continuo rinvestire. Ogni testina negli anni aveva un suo stilo o una serie di stili. Poi ultimamente riprogettando tutto, la bobina vanno a famiglie, perciò c'è una bobina. Infatti nel mio sito l'ho messo in maniera elementare che lo possa capire anche uno che non sa cos'è una testina, perché li vedi a gruppi, il corpo è sempre quello, cambiano gli stili. Detto questo, su questo corpo, questa bobina qui abbiamo quello stilo lì, però uno può procurarsi o un altro shell perché è intercambiabile, proprietario intercambiabile, o può cambiare solo per procurarsi uno stilo migliore. E allora, per i dischi della sua gioventù letti con quello che capitava, o addirittura comprati al mercato usati, che non sai chi li ha arati, puoi usare quella testina lì che non si rovina perché la testina rovinata rovina i dischi, ma il disco rovinato non rovina la testina. Detto questo, però, puoi tenere da conto quella pregiata e fargli fare le ore che servono. Comunque il bracetto è un bracetto di qualità, normalmente equipaggia giradischi da 1000 euro più che da 400. Ecco, adesso noi stiamo girando nella primavera del 23. Questo vale per tutti i video che facciamo, perché i video restano in rete. Eh sì, questo è un dettaglio importante. I listini cambiano, constantemente. Perciò c'è gente che mi chiede prodotti che abbiamo presentato nel 2020 e gli chiedo se la benzina o il pane lo paga quello che lo pagava nel 2020. Perciò aggiornamento prezzi è sottointeso. Perciò i prezzi che do sono quelli che corrono adesso, non quelli che ci saranno fra tre anni quando vedete sto video. Continuando la descrizione dell'apparecchio, abbiamo un piatto in cristallo e allora sappiamo perfettamente la qualità. Innanzitutto con quello che pesa, parliamo di cinetica e di equilibrio e una volta che parte aiuta il motore. Il motore è elettronico servocontrollato, non ha puleggine che lo cambiano, perché i famosi giradischi che uno va in circa, anni 3080, se sono a cinghia e non erano di vertice, hanno una puleggia fatta tipo bottiglia e birra. E sul collo va a 33 e sulla pancia va a 45, con la forcella che lo cambia come la catena di un cambio da bici. Ne so qualcosa con il mio vecchio Torens. Appunto. Il piatto in cristallo era una prerogativa anni fa di un Rega 3, ben diverso da un 2 o da un 1 e il piatto lo vendevano su 100 carte. Il piatto ha, insomma la testina ha un effetto microfonico, in questa maniera sei certo che la sonorità è uguale, a parte che poi si usa il mio mat in mousse di neoprene, che cambia da così a così ed è regolare, perciò regolare più regolare fa doppio regolare. E questo qui sei un esibizionista lo metti con la scritta, se no lo tieni discreto ma fa da copriletto. Cioè questo qua copre il mat, quello vero, che resta pulito e quando arrivi gli cavi, copri il letto e gli metti il disco e viceversa. Detto questo, l'amico ha gli RCA già a pannello, un upgrade che normalmente si fa su tutti i vecchi giradischi, ha il preamplificatore Fono incorporato, perciò se tu non hai nulla o hai un amplificatore audio video che non aveva l'ingresso Fono lo puoi tranquillamente usare. E' una delle famose cose che sono in più e che puoi anche non usare. Esattamente, però se parti da zero ti serve come pane. Certo. Certamente è un Prefono che se equivale a quello che compri sfuso a 40-50 euro. Ed è fondamentale che ci sia, non per sentire bene il vinile, ma per poter utilizzare l'uscita digitale, perché ho la USB, che ti permette di scaricare su un PC il vinile. E per fare quello dalla testina bisogna prima preamplificarla RIA e poi convertirla in analogico, in uscita eccetera. Però se questo va su un impianto evoluto, disinserisci il commutatore e lui è un giradischi diciamo amatoriale. Quindi viene bypassato integralmente. Esattamente, perciò nessuno ha nulla da dire. E' impiallecciato in noce, ha gli stessi piedini che montano appunto i debut, perciò più che sufficienti. Alimentazione esterna, perciò nessun problema con interferenza e corrente. L'antisketting a filo, col pesetto in cascata. Elementare quanto efficace, anche perché il tuo Torrent è versione diciamo evoluta con braccio fatto da specialista. Ma quelli con il braccio Torrent, i P16, hanno l'antisketting magnetico. Certo. E se uno sa montare la testina vede che è a zero e lui va avanti. Cioè non sta fermo, perché sei più sicuro come precisione di funzionamento con la carucola, con la bavetta, che col magnetico. Questo qui è LBT225WA e ha un base di 4,29 completo di tutto quello che abbiamo detto. Te fa conto che con 400 euro, se non ci sono rientri baratti, perché poi il 50% della gente, mentre qualunque altro l'aeroto domestico si arrangia a portarlo in discarica, gran parte viene qui e ti dice quanto mi dai, come avesse il sacro grado a valutare. Ecco, e lì basta che aprite un attimo il borsino internazionale, sigla, apri Google, scrivi, tot, vendo e vedrai a cosa vale. Certamente non fa fede la quotazione con il tricolore, perché pare impossibile gli italiani chiedono da più al doppio di quello che chiede l'Europa, ma il tedesco è più affidabile e lì normalmente vedi che sono decine di euro, centinaia. Premesso questo, parliamo di denaro e non dei baratti, 400 euro ti omaggio il MART da 30 più IVA, perciò hai uno sconto effettivo di 70 che su 400 non è poco. Poi hai già la possibilità di montarti il cavo buono e anche lì possiamo darti una mano e il cavetto da 80 euro te lo possiamo dare al 50%, perciò diciamo che grossomodo con 500 euro hai un giradischi che è allineato a quello che ti chiedono normalmente mille. E già qui hai già messo da parte i soldi per ricostruire le casse che hai col foam distrutto, con i fili della mutua, con i condensatori dell'uovo di Pasqua. Perfetto. E ci siamo già messi a posto. Sottolineiamo che comunque puoi già crescere anche solo semplicemente cambiando la testina. Certo. Perché questo è un braccio che regge testine sicuramente di qualità. Io ti vendo il Lego, ti vendo il Meccano, ti vendo una cosa che cresce all'infinito, non ti do una Barbie da pettinare. Certo. Perciò giochi quanto vuoi e finché hai voglia. Esatto. Detto questo abbiamo parlato di ricostruire una cassa come che Dio comanda, anche perché molto spesso, anzi diciamo che il 5% dei diffusori che trovi sull'annuario hanno, diciamo, possono restare come sono. Non serve metterci mano. Ma il 95% è perfettibile, al di là del prezzo. Cioè, per capirci, qui ho la rivista di sto mese, senza che facciamo nomi, visto che non si può parlare di pubblicità comparativa. Qui si parla di un diffusore che costa 300 euro di listino la coppia e che, onestamente, è ottimo per quei soldi lì. Tra parenti di un diffusore che io non vendo, tanto per capire quanto obiettivo sono. Certo. Eh. Però non serve essere dei tecnici per vedere il crossover che monta quei due cilindretti blu, che sono dei condensatori che costano pochi centesimi. E i cavetti. Ecco. Perciò, questi due dettagli li trovi qua come li trovi su casse molto più costose e sono fondamentali da rivedere per lavorare sulla timbrica. Certo che non basta mettere un condensatore o del cavo costoso, bisogna anche saper fare il nostro lavoro. Beh, certo. Boh. Ad esempio, nessun diffusore ti dà di dotazione dei cavi specifici per ogni via, ma montano dei cavi uguali, più o meno economici, più o meno costosi, ma li montano uguali. Non serve essere un musicista per sapere che un wufa fa boom boom, un medio fa sbang sbang e un twitter fa ccc. Perciò con l'argento valorizzi il scintillio dell'alto. Con determinate altre mescole puoi allargare il fronte, ad esempio tanti hanno fatto i cavi con un fascio di cavi di rete. Boh. Si allarga che un medio a cono pare a tromba, ma non esce, non cresce in frequenza su e giù. E OFC, rame OFC grosso misura, ti garantisce una discesa agli inferi con le frequenze. Ma se io li sposto, il twitter canta con gli adenoidi e il wufa si dimezza di timbrica e diventa una roba strana. Cioè praticamente il cocktail diventa un miscuglio. Certo. Perché hai sbagliato le dosi o hai fatto quello che c'è da fare. D'altra parte lo chef, la pasta non se la fa, lui è solamente come te la prepara che viene fuori il suo genio. Ecco. E perciò a me non interessa più di tanto vendere le casse nuove che ho nel sito. Mi interessa che il cliente sia contento perché gli abbiamo dato un servizio che non gli da nessuno. E questo è un altro paio di mani. Certo. Continuando il discorso, qui a 150 carte l'una hai sta roba qua. Poi giri pagina e ti trovi un'altra cassa che non facciamo nomi ma troviamo appunto un crossover che ha lo stesso fili economici e lo stesso i condensatori. Qui parliamo di 5.000 euro. Perciò hai comprato tanta altra roba. Non è che ti stanno dando la cassa da 300 euro a 5.000. Sia chiaro questo. È che hai comprato tanta roba ma non l'hai comprata tutta. Perciò hai comprato della carne più pregiata ma il condimento non l'hai comprato. Perciò se Mcdonald non ti dà le salse voglio vedere se riesci a mangiare quello che ti dà. Perfetto. Siamo capiti. Detto qua stavo dicendo. Abbiamo spiegato il giradischi. Abbiamo detto che le casse acustiche le possiamo sistemare con una cifra ragionevole perché due casse che possono valere commercialmente malconce 200-300 euro l'una con altri 300 l'una 600. Se è arrivato sotto i 1.000 e hai per le mani una cassa che può suonare tranquillamente a livello di una ben fatta da 3.000 certamente avrai il look del nonna pirata non certamente dell'ultimo grido. La nonna del corsaro nero. Sì. O non è berada, chi cazzo che sia. Ma se è un bookshelf, cioè da libreria, però comincia ad avere 40 litri, è evidente che è un bookshelf impegnativo e si intende books della libreria del tempo che fumano, di quelle che ti danno adesso. Certo. Perciò va per terra. Per terra ci va lo stand. Perciò metti in conto anche quello. però sono tutti elementi che 5%, 10%, 15% della fetta va in quota, cresci. Comunque eravamo al ragionamento di portare a modello un diffusore nella maniera migliore possibile e che suonerà su una maniera impensabile anche rispetto a quando era nuovo. Abbiamo il giradischi che praticamente paghi metà di quello che hai. Per sentirli ci serve un amplificatore in mezzo. Allora l'amplificatore vecchio tipo, soprattutto se era una roba da coordinati, da rack eccetera, può servire fino a un certo punto. Lo puoi usare facendo un diffusore a tre vie, mediamente consigliato in biamplificazione, riveduto e corretto in qualche dettaglio il tuo vecchio amplificatore potrà sicuramente collaborare in maniera fattiva a fare la biamplificazione. Però ci serve un cervello nuovo. Soprattutto se le esigenze sono cresciute, vuoi ascoltare sorgenti digitali e cose del genere. Perciò o ti vai a comprare un DAC. DAC è l'acronimo di Digital Analog Converter. Questo qui è appena arrivato della Mission. Sulla carta è molto interessante. Sarebbe l'evoluzione di quello che monta l'amplificatore. Certo. Lì l'ho potuto ascoltare, qui no. Perché purtroppo il bello della diretta, sballato ieri, il telecomandino non ha voglia di andare. Perciò non ho avuto il tempo tecnico di poter vedere che cos'ha. E nel tempo pratico di farmene mandare un altro. Perciò su un prossimo video ne parleremo. Bene. Anche perché la pietra di paragone è comunque sempre il level Arcangel. E poi lì, adesso facciamo poi un discorso sui DAC. Comunque questo sulla carta si presenta molto bene. Molto versatile. Ha la presa cuffia. Che già ti permette di usarlo se non hai altro. In più ha un ingresso analogico. Perciò puoi già attaccargli il piatto. Perciò già da lui potresti pilotare o delle casse attive o un finale. O un vecchio amplificatore entrando in AUX. Quando funziona il telecomando ti da anche il volume, il mute e compagnia. Perciò hai l'uscita per poterlo pilotare. Ha un ingresso analogico che va bene per il piatto. Hai un coassiale. Perciò puoi usare qualunque macinino di trasporto. Da un DVD a una Playstation, Xbox al vecchio CD. Come drive. Perché lui suona con il digitale. Chiaramente ci vorrà un cavo decente. E andiamo. Fibra ottica. Perciò puoi amplificarvi la TV. Hai l'HDMI con la ARC. Perciò vai in sincronismo con i video. Se ti interessa. E probabilmente può prendere. Non so se può recepire il segnale DSD. Certamente sì. E allora l'HDMI verrà usato. Esattamente. Lo vedi lì. DL Extreme Digital DSD. Certo. Ok. E poi ha il Bluetooth. E di ultima generazione. E appunto stavano dicendo. Hai la presa anche per chiavetta. E presa per il PC con la USB periferica. Si. E la presa di rete anche vedo. Si. No la rete non ce l'hai qui. No la rete. Ah non c'è la presa di rete. Però c'è una versione. Simile. Ok. Che ha la rete. che gestisce dei diffusorini in Bluetooth attivi. Ok. Che fa parte di un complessino. Che si può anche avere. Certo che esula la mia mentalità. Chiaro. Detto questo. Dicevamo appunto che l'amplificatore. Va molto bene. Ma veramente molto bene. Esiste sia silver che black. Con due finiture. Se per caso ti capita che non va il telecomando. Lì ti salvi. Perché con le manopolline fai quello che vuoi. Infatti. Non l'ho neanche tirato fuori dal cartone. Su telecomando. È simpatico. Perché. Ha una sfilza di ingressi. Tutti i digitali. Si accende la corona azzurra. Con gli analogici. Invece sta spenta. Perciò riesci benissimo a capire. Da che parte stai. Anche lì. Presa cuffia. Uscita pre. Perciò. Da quella uscita pre. Puoi coinvolgere il tuo vecchio amplificatorino. Per fare il biampli. E compagnia. Perciò. L'antenina. Vedi che spunta da dietro. Tutto. Eh. Potenza. Niente da dire. Di targa. No. Effettiva. Loro dichiarano. Pilotando i diffusori. Si sente. Che. Si difende alla grande. 45 va. Di quelli veri. E soprattutto. I woofer camminano. Eh. Perché. Lì stanno i watt veri. Si. Lì stanno i watt veri. Perché con tanti amplificatori. Anche di targa. Più alta. Non. Non ci siamo proprio. Eh. E questo appunto. Eh. È per quello. Che te lo consiglio. Eh. Diciamo che. Ecco. Qui. Allora. La. La. L'International Audio Group. È quella azienda. Che un po' per volta. Ha rimesso in vita. Eh. Tanta roba estinta. Mhm. Da Luxman. Alic. Ah. D'Audiola ab. Eh. Warfedale. Mission. Eccetera. Contariamente altre aziende. Che hanno preso tanti marchi. E poi lavorano con determinato standard. Eh. Diversificando solo l'aspetto del prodotto. Quello che... Eh. Qua è strabiliante. Soprattutto se riesci diciamo. Ad ascoltare gli apparecchi. Come funzionano. E che flessibilità hanno nell'interfacciamento. hanno fatto miracoli perché sembrano fatti da persone che non si conoscono cioè praticamente Mission, Leak, Audiolab hanno delle fisionomie completamente diverse mentre in altri casi che ne so se tu pigli in determinato periodo una Lancia, una Fiat, una Lancia, una Fiat Alfa, quando apri il cofano vedi che è quel motore lì ecco qui anche se ti dichiarano che hanno il solito sabre come Dac hanno lavorato di fino che sembrano completamente diversi ognuno ha la sua voce, la sua personalità, hanno cercato di dare un senso al marchio, questo significa 5 casse, 5 ampli, 25 risultati diversi combinando che la stessa cassa non è detto che funziona bene con tutti perciò l'amplificatore soddisfa pienamente le caratteristiche che hanno dichiarato e si può fare, certamente che se vuoi sfruttarlo al cento per cento serve uno chef e non un cuciniere che ti dà delle casse acustiche che dimostrano di valorizzarlo e lì è il solito discorso che l'esperienza non è improvvisi. Se invece interessa farlo per l'azione ma si vuole un giradischi onesto ma meno costoso, sempre gli amici Lenco ti danno un ottimo prodotto su un'altra categoria di prezzo perché qui stiamo sotto i 300 euro. Meno credo che sia impossibile, se vuoi suonare un po' su una rivista dell'altro mese hanno fatto una prova non so perché hanno tirato in ballo un Lenco economicissimo che non c'entra nulla con questi standard di qualità perché ripeto l'azienda si serve da vari diciamo terzisti. Qua hanno fatto un gioiellino. Innanzitutto si vede la costruzione del braccio sempre Bratislava con ecco qui ad esempio un dettaglio vedi che la presina del braccio è riportata di sopra è certo che montarli così si fa prima però io che monto testina da 52 anni tribolo un po' di più ma quella lì la metto sotto tu hai presente lo scegli uno smè ok è fatto lo stesso sistema ma nessuno non te l'ha mai messo di sopra è messo sotto va alla stessa maniera quello lì già il dettaglio che vedi che quello lì è di fabbrica così comunque a parte questo c'è un'altra cosa da dire che non montando le guarnizioni di plastica sotto in questa maniera quando tu la cavi sotto è ancora vergine pulita se tu la monti in un'altra maniera senza le guarnizioni lo strisci cosa che comunque quando io ti cambio la testina è la prima roba che ti metto qui in dotazione hai un'audiotecnica 3006 compatibile con lo stilo con la T91 che diciamo esiste anche sotto più nobili e mentite spoglie a prezzo anche doppio ma quella è un altro paio di maniche del mercato la testina vale 39 scontata e li vale tutti già che c'è chi la vende a 70 con altro nome però il braccio può portare tranquillamente una testina anche da 200 euro infatti una cosa che può valere per entrambi può arrivare anche al magico mondo gold note e non serve pigliare le testine da 8000 euro perché già a 100 e poco più 120 la S78 è un gioiellino e nel caso sia per questo che per questo se uno gli interessa qualcosa gli possiamo scalare di quella se non gli interessa se no diciamo si può fare e allora magari con il prezzo di questo uno può esasperare testina piuttosto che il resto e allora può pigliare anche questo modello qui con la testina più migliore e poi si fa la differenza della testina anche in questo caso comunque abbiamo le boccolette per montarci i cavi con gli RCA abbiamo anche qui il prefono disinseribile abbiamo anche qui il bluetooth chiaramente abbiamo un piatto in alluminio ottimo per la sua categoria ma non paragonabile al vetro anche perché onestamente a questo prezzo qua è impossibile trovare il vetro ecco lì un discorso sull'alluminio sul vetro perché addirittura poi tanti altri concorrenti a questa fascia di prezzo ti danno un piatto in medite MDF che sembra lo scarto della lavorazione a casse cavi il woofer e con quel legno lì fai un piatto detto questo se tu pigli un cacciavite e batti sul raggio senti che din din don don dan dan cambia ecco la risonanza della medite è alta questo qua è ottimo tu hai lo stesso suono nel raggio battendo nel raggio è uguale questo vuol dire che la timbrica che avrai con la prima canzone del disco è uguale all'ultima mentre con l'alluminio non è uguale perché si usa il mat liscio per levare le canalizzazioni che disegna il mat che fra disco e canale crea risonanza perciò è un'approssimazione continua più regolare vai e più ti aiuti a ascoltare meglio ecco questo qua ha un base dicevamo di 290 euro che poi se non ci sono rientri puoi arrivare anche a 250 altrimenti con le variabili che dicevamo anche in questo caso ti do il mat oltre allo sconto hai il mat il prezzo dell'apparecchio è di 699 che anche qui limabili chiaramente ha un ottimo rapporto qualità prezzo perché su questa cifra qua apparecchi così rifiniti così versatili così ben suonanti io non ne ho ancora sentiti e ti dico che ne rientro tanti perché basta guardare il mio sito peterson.it pagine usato, pagine del vintage o soprattutto le offerte speciali che sono l'equivalente dell'auto a chilometri zero chiamate anche errori di gioventù cioè praticamente infatti lì si trova un diffusore non facciamo nomi perché l'Italia non permette la possibilità comparativa un diffusore da 2200 euro che ha suonato 20 giorni a casa del cliente poi si è presentato il cliente chiaramente non glielo ho dato io l'ho guardato negli occhi dopo che l'ho sentito 3 secondi suonare gli ho detto ma tu questa cassa l'hai comprata online? gli ho detto l'editato rosso ha detto sì immagino perché dovevi avere un gran raffreddore quel giorno che l'hai ascoltata in questa maniera perché c'è le adenoidi e adesso chi la comprerà farà un affare perché gli abbiamo fatto un upgrade da due vie e medio è diventata tre vie pura perciò la biamplifica con un senso e dai due e due che l'ha pagata questo poveraccio noi te la proponiamo pari al nuovo con due anni di garanzia sul prodotto e quattro anni sul lavoro a 1.500 con incluso l'upgrade che se lo doveva fare erano 500 euro perciò ottimi affari anche sulle offerte speciali certamente non parliamo del brand perché lascia il tempo che trova l'importante è come ti arriva la pietanza sul piatto come è stata cucinata che salsa ci hanno messo perciò non è che tizio è più bravo di Caio se no facciamo i discorsi che fanno i nonnini del calcio nel dopo partita quando la loro esperienza si limita alle pallonate dell'oratorio di 80 anni fa no, stiamo parlando di oggettivo quello che ti arriva sul piatto ok abbiamo parlato della zona bassa dell'inquadratura però nella zona alta tutti avranno notato un marchio che impera che è l'IC di cui tu poi sei un alfiere di quelli importanti quindi adesso io vorrei parlare di quello che c'è nella parte alta adesso andiamo per ordine certamente ti ringrazio Marco allora innanzitutto l'IC di casa mia e di famiglia eh infatti notavo quelli sono i TL 12 Plus quindi originali non hanno 65 anni bene la nostra età più o meno esatto e appunto fatti ancora da Mr. Leak certo poi di fianco vedi lo stereo 70 che era il loro amplificatore di punta nel decennio successivo perché è un 68 ed è praticamente l'ultima produzione realmente l'IC ricalca l'estetica del pre amplificatore della stesso periodo mentre i finalini nel frattempo erano cresciuti di potenza anche con il valvola poi avevano abbandonato quel colore champagne e avevano preso il grigio come la fascia alta dell'ampli ecco diciamo che tuttora lo ascolti io di là ho da ristaurare delle pioneer fatte da Audel l'Audel era l'importatore pioneer del tempo che fu prima era Prodel poi diventata Audel ingegner Bertazzoni scomparso tragicamente nel 79 ma negli anni 60-70 ha portato Pioneer a dei livelli impensabili a parte che il consumatore medio dell'epoca pensava fosse un marchio americano anche perché c'era la sonda Pioneer che perversava nello spazio ecco in realtà era giapponese però i grossi nomi giapponesi tranne Sony non arrivavano perché Denon è arrivata ufficialmente a metà anni 70 e Onchio c'era qualcosina nei primi 70 ma la conoscevano in pochi Pioneer che a casa sua era ben più piccola di questi nomi qua qui aveva dato l'idea che fosse il non plus ultra e comunque il riferimento assoluto lo è stato per moltissimo tempo ti ricorderai vecchia bega del povero Bebo Moroni quando ha fatto il confronto col Mac ah si 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 una delle tante esatto perciò Pioneer diciamo insomma era quello che si vendia di più era per forza il riferimento detto questo Leak era un prodotto di nicchia era un prodotto che diciamo innanzitutto era seguito da chi l'alta fedeltà la viveva ancora prima che esplodesse a livello popolare e e manteneva una qualità musicale superiore certo che esteticamente c'è il gusto di un inglese perciò o ti piace o lo odi non è che può essere via di mezzo innanzitutto c'è da dire appunto lo conosciamo bene e da sempre e nel 69 è subentrato il gruppo Rank ad acquisire il marchio perché appunto Mr. Leak l'ha ceduta e e han continuato a lavorare su una certa maniera lì vedi un paio di tuner della linea successiva Delta mancano le manopole di sintonia perché si sbriciolano e e ho voglia di ricostruirle col 3D ma devo recuperarne una che non si sia ancora sbriciolata tanto per poterla fare copiare copiare diciamo clonare esatto perfetto detto questo comunque macchine appunto ottime e la Rank poi l'ha congelato il marchio negli anni e addirittura nel 78 79 che non era più importato in Italia ce lo siamo importati direttamente essendo amplificatori giradischi diffusori eh perché appunto era un marchio che valeva la pena eh di investire e soprattutto perché il tessuto commerciale dell'Italia lo sai l'ottanta novanta per cento della gente sa solo vendere di rapina vendere di rapina vuol dire calare il prezzo su un prodotto che il cliente è già convinto di comprare e il cliente può essere convinto di comprare perché quel prodotto lì gliel'ha presentato qualcuno che era in grado di valorizzarlo di presentarlo solo che appunto siccome appunto eh l'italiano è particolarmente fra virgolette furbo gli comoda avere eh diciamo il servizio che gli fai un'idea eccetera poi però quando è ora di riconoscere il valore aggiunto che gli hai fornito allora no allora va bene comprarlo anche dall'altra parte e e questo è il problema che eh diciamo se l'alta fedeltà è malconcia è anche per quello diciamo la figura professionale viene riconosciuta solamente quando uno è nei pasticci e allora lo devi tirare su eh e dargliela ripulita chiaro perfetto tornando a noi ci interessava importare l'IC sia perché amavamo il marchio e sia perché potevamo lavorare tranquillamente senza tante diciamo eh incazzature di meno questo è l'ultimo due e trenta allora nel 2020 abbiamo presentato il ritorno certo agganciandoci al discorso appena fatto c'è da dire che dei 40 rivenditori che trovano sul sito ufficiale della LIC a me risulta di essere l'unico che lo vendeva prima 40 anni fa andasse a congelarsi eh detto questo eh qui avevamo già spiegato tutto nell'altro video certo sì e quindi rimandiamo all'altro video questo chiaramente per farlo più robusto è fondo è profondo un quindici centimetri in più perché serve alimentazione più grande finale più grande infatti questo qua spinge mentre questo era raffinato leggero però già consigliavamo l'altra volta di metterci un subwoofer qui invece dall'uscita pre puoi metterci un amplificatore piccolo per i medi o alti sul biampli perché il buffer ce la fa da solo a spingerlo perciò ha le caratteristiche di questo evolute nel DAC perché anche qui vai con il DSD e con un finale degno di nota nel frattempo dato perché quello che mi interessa lo porto avanti sempre per convinzioni mie personali ho già in cantiere da tempo sulla linea di produzione Level un finale dedicato a chi ha il 130 che avrà delle caratteristiche anche superiori al finale di questo infatti c'era scritto Level for Leak ripetendo questa linea e ospitandolo sempre sul mobiletti che noi facciamo con qualunque finitura questo è in palissandro ma c'è l'eucalipto c'è il noce quello che sia e perciò lo si può vestire uguale della linea e in quel caso lì non è obbligato uno a doverlo aggiornare con questo ma arriverà il finalino che dà un senso compiuto anche a questo impianto questo secondo me è una cosa molto interessante perché appunto si rivolge a un ampio mercato di chi appunto ha questo brand e dice ma vorrei fare la biamplificazione ma chissà che finale posso abbinare tu lo sai che l'ultima roba che io faccio è quello di dovergli cambiare l'impianto a uno perché non essendo un mero commerciante che anche se le robe vanno bene o perché non sa aggiustarla o perché gli comoda che ci sia il movimento perché gli si attacca qualcosa sulle unghie quanta gente è che ha passato una vita a cambiare pezzi perché era mai consigliata e allora per fare un esempio così alla Carlona mi viene in mente il povero Zamparini che cambiava 5-6 allenatori l'anno non è che cambiando gli allenatori cambi la squadra perciò è quello il concetto normalmente su un impianto messo insieme con tanti best buy perché il premio EISA te lo danno al singolo componente ma poi non si sa se messo insieme fa la figura di cavoli a merenda di solito basta solamente cambiare un elemento anche perché se devi cambiarne 2 su 5 chi te l'ha messo insieme era proprio un somaro è cambiato un elemento e aggiustato il tiro puoi ottenere dei risultati impensabili per come sentivi prima questo vale in questo caso nella stessa maniera perciò come abbiamo detto nel 2020 e ripetiamo nel 2023 frequenze medio-alte va benissimo bisogna essere più robusti su e allora se hai il sub ok se hai un diffusore da rivedere in tre vie arriverà il suo finalino che ti dà una completezza nel look e una perfezione nell'audio viceversa se adesso puoi partire da subito e parti con questo sei già messo molto ma molto bene e l'amplificatore che ci devi aggiungere basta una potenza irrisoria perché su una stanza da 6x4 altezza 280 la solita proporzione regolare perché se è più grande deve essere più alta gli è sufficiente per pilotare i medio-alti un amplificatore da una ventina di watt se l'hai più grosso non importa terei il volume più basso anche perché poi lavori solo con questo manualmente o da telecomando che altro? che altro che abbiamo sforato ogni tempo possibile quindi siccome questa è una puntata della telenovela rimandiamo approfondimenti su altri apparecchi ma te lo dico già la prossima puntata che seguirà questa sempre nella linea di aggiornamento allora questo è trailer è trailer esattamente parliamo dell'Audiolab 7000 perfetto 9000 top e 7000 che sono praticamente fatti sempre dal solito gruppo IAG come ci avevo prima ma con mire risultati diversi mi fermerei qua perciò alla prossima puntata ben volentieri e quindi niente ti saluto e salutiamo i nostri amati spettatori amici più che semplici spettatori certo e alla prossima grazie a tutti ciao quattro al suo debutto amadeus aveva proprio quell'età roba d'enfant prodigio e poi cresci di più e scrivi una sinfonia quattro i moschettieri di Dumas se conti pure d'Artagnan l'han fatta l'han fatta riscenier i piedi di un comode le ruote di un coupé i gusti di un gelato se vuoi esagerare un po' come ora nel volei gli amici dentro un bar la pera di Vivaldi o in pizzeria guad punto qua attraversavano Abbey Road scrivendo la storia del rock b b d Lверpool I quattro gol in Mexico E andò in finale l'Italie Ma poi vinse Pele Brazil I quattro siamo anche noi Siamo tutta resa che non smettiamo male Per tanto tempo ormai E disegnare accordi e giochi Tipo lifonie, lavori di armonie Esagerando pochi, sintonie Ascolto intorno a te Cantando sei dolcenti Cluster jazz Free jazz Quattro Sono quattro gatti dentro a un club Ma il feeling non ti mancherà E li emozionerai Quattro Se vado a nord, sud, ovest, est Rosa dei venti, amore mio Ti porto dentro me Nel cuore al ritmo sweet Per tutti nel vivò Contando One, two, three, four Quattro 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 Quattro